è la prima volta che prendo un treno cinese non vedo l'ora di vedere come non faccio un tempo mettere i piedi qua in stazione e subito un follower mi attacca per prendere il treno è come in italia l'aeroporto ci sono dei controlli pazzeschi è vero api questa è un po più vecchia di stazione anjo don janko l'altra stazione più nuova bellissima vuoi andare a vederla prossima volta quando partiamo per cianciati facciamo vedere l'altra vedi che è diverso che rispetto all'italia che di solito in stazione quando aspetti il treno ci sono le persone che sta lì a parlare eccetera mentre qua non escono solo quando deve partire il treno no sono felice non potevamo essere che la carrozza numero uno la number one papi questa è la mia classe come è bellissima come l'aereo è meglio del divano di casa mia come è? quindi vi posso fare un pisolino esatto ma ci sono anche le ciapattine esatto sì 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 ma sul treno danino mangiano anche la bottiglietta d'acqua o il tè? sì 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 asgoliamo cosa c'è dentro Cos'è? Ah gli spuntini, i spuntini, il misterino, papi cosa fai, lo spuntino? Assaggio tutti questi spuntini Com'è? Ah sì, sembra buono Ti ho visto che dormiti eh, hai dormito? Piccolo pisolino Papi secondo te a che velocità andiamo? 200 km all'ora No no no, guarda là, 300, più di 300 km orari Ma nooo, guarda là Sembra di essere fermi Guarda, guarda, 330, dica 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 La città è grande, questa città è grande È piccola Il giugiu Il giugiu Il giugiu No, il giugiu Ti sembra grande? È come la Valletta Brianza? Grande? Sicuramente più grande di Milano Più grande di Milano Poco arriviamo, faccio un video per mia moglie prima di scendere Ciao mamma Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao boss Che pezzisci Mamma, guarda, abbiamo comprato la business class a papà per il primo viaggio sul treno in Cina Guarda che bella Com'è papi? Bene Siamo arrivati a Shanghai Com'è nato il viaggio? Benissimo, riposante Ovatore Adesì Sono quando noi sono absurdi